Ben trovati con l'informazione a cura di meteocalabria.net. Gli ultimi giorni dell'anno saranno contraddistinti dal freddo intenso, il tutto a causa dell'afflusso di aria continentale che dai Balcani si dirigerà verso il centro-sud dell'Italia. Non mancheranno venti forti e locali nevicate. Uno sguardo rapido alle mappe di previsione. Venerdì 27. Sareno poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Venti deboli o tutt'al più localmente moderati e mari tutti poco mossi. Temperature in generale calo, specialmente dalla sera, quando inoltre ci aspettiamo un'accentuazione del motondoso sullo Ionio. Da sabato 28 dicembre entreremo nel vivo di questa prima vera ondata di freddo della stagione. Ci aspettiamo un rinforzo del vento dei quadranti settentrionali, un sensibile calo termico e qualche fenomeno nevoso, più probabile e persistente nei versanti nord-orientali di Pollino e Sila, fin verso le quote collinari. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!